Oggi facciamo una ricetta chic, elegante ma sempre semplice e gustosa. Prepariamo un bel risotto con le quaglie, o meglio con le cosciette di quaglia, più delicate e saporite. E come sempre vi farò vedere uno per uno tutti i passaggi in modo che sarà molto facile poi applicare la ricetta. E ora, già stavola con l'acqua.